Oggi andremo a Subway Surfer e cercheremo di arrivare prima di questo top run dove c'erano in che posto sono nella classifica ok vediamo ok dunque vi chiedo se vi piace questo video lasciate tanti like e iscrivetevi e condividate ok siamo arrivati a 11.000 penso lo so poi poi in corso c'è pure l'evento di Mumbai ora non posso guardare nulla perchè non ho mangiato ah ok sto guardando un po' lo insieme non c'è via ah non l'avevo visto peccato dunque cambiamo skin mettiamo il jack normale e spocchettiamo un po' di cesto cosa non c'è 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 3 e ok 5 bottigliati per sboccare jake star ok il cappello di Tricky 300 manate e la chitarra di Spike e non posso più prendere lo vediamo Spike che è ancora a 7 Flesh sono a 12 Tricky non so perché non lo ha dati ma per questo Tricky Completed Art noi mettiamo un link ok io vorrei far scoprire l'inizio sono arrivata a 40 allora non arrivare a già così lo portiamo saperemo se posso o non è possibile quando lo posso ah mega mi sembra metteremo ragazzi quando arrivi avanti via dove mi eserci ho fatto una rinascita che sono una cosa quindi quando arrivi avanti mi farò mi sembra che mi sembra mi sembra che mi sembra non ah ok 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 dai sono per battere no vabbè ok ho messaggio la cosa a vero direi a vero c'era prima il mio pop che mi spiega su ok vi discorre di platina grazie ciao